Siamo alla quattordicesima edizione come festa dei sapori modoniti perché prima si chiamava Sagra della Castagna, poi l'abbiamo cambiato anche perché è diventato un importante appuntamento a carattere regionale, infatti abbiamo tantissimi operatori economici che vengono ora da tutta la Sicilia e richiedono il posto per poter partecipare a questa manifestazione. Il programma è molto molto articolato, ci sono mostre, artisti da strada, convegni, le chiese aperte, c'è un pochettino di tutto il folklore, tutto quello che può raccogliere la manifestazione è ben accetto e ce ne sono tantissimi comunque appuntamenti per quanto riguarda questa manifestazione. Fra tutti gli stendisti la maggior parte sono gastronomici, oltre che di artigianato e basta, di altri tipi di articoli non ce ne sono, ma la gastronomia è alla base di tutto, faremo la ricotta fresca proprio e tutti quelli che verranno potranno assistere alla preparazione della ricotta, dal latte alla tuma alla quagliata alla ricotta e poi ci sono anche altri stendisti che vendono formaggi, salumi, miele, di tutto e di più, praticamente c'è di tutto, tutto quello che voi desiderate troverete proprio fra i quasi 100 stendi che ci saranno nella manifestazione. I nostri ospiti naturalmente potranno degustare i prodotti tipici delle Madonie, fra cui la ricotta sarà data gratuitamente proprio per assaggio e poi troveranno di tutto quello che è la loro esigenza per quanto riguarda il livello gastronomico. Durante l'evento ci sono diverse escursioni non solo nel centro storico ma anche nella natura e ci saranno l'escursione proprio delle castagne, andare a raccogliere proprio le castagne madonite che sono un prodotto eccezionale. L'evento inizia venerdì giorno 28 e finisce domenica notte dove ci saranno comunque tutti gli appuntamenti e vi aspettiamo a Pederalia Sottana proprio per questa grossissima manifestazione e benvenuti a Pederalia Sottana.